per introdurvi nel fantastico bagno di questo albergo che è dotato di un dispositivo prestigioso nel quale si riesce ad ottimizzare sia la fase di soddisfacimento dei bisogni fisici sia quello di igiene personale. Dunque apriamo ed eccoci nel bagno ora come potete vedere adesso che il neon diciamo si accende vedete diciamo il bagno si compone di un cesso diciamo che al di sotto del lavandino allora voi direte ma come cazzo faccio a cagare diciamo con un lavandino diciamo e c'è il segreto dovete cagare allora fate così il lavandino basso scorre ed ecco che voi siete liberi diciamo di cagare felice poi una volta fatto quindi se volete diciamo lavarvi le pudenda non resta che richiamare diciamo lo stesso lavandino nella posizione originaria. Faccio notare in effetti che onde diciamo attivare il lavabo è possibile quindi utilizzare diciamo questa comoda leva per la quale peraltro vediamo soltanto diciamo che è freddo e caldo penso che sono scritti in tedesco in qualche lingua diciamo strana come pure per la doccia c'è una specifica manovella e se vogliamo andare a vedere la doccia ecco che potete vedere insomma che c'è ampia c'è una cornetta davvero prestigiosa come adesso potete vedere e quindi direi che sarà una bella notte dopo vi farò un reportage anche sulla stanza sui retti e sul fantastico sulle fantastiche crepe dei mui insomma ci si sente più tardi ciao ciao